Ciao gente, io sono Michele Licati e oggi vediamo la recensione della EasyViz C8C, una telecamera nuova, di nuova generazione, molto interessante, che integra anche l'intelligenza artificiale e vi assicuro che funziona egregiamente. Ma restate con me e vediamolo nel video. Iniziamo, come al solito, da quello che trovate in confezione e oltre alla telecamera, un tappino per il mantenimento stagno di tutta la telecamera e del collegamento Ethernet che trovate qui in fondo, oltre al cavo di alimentazione, le viti di ancoraggio al muro e l'alimentatore non c'è niente. Come al solito, EasyViz però ci vizia nella sua applicazione, non tanto nel contenuto. La telecamera è già ottima di per sé. L'ancoraggio al muro è molto molto semplice perché adesso qui non la vedete, perché è montata appunto sul muro di casa mia, in realtà su una finestra, c'è la basetta, la staffa di aggancio, che può essere collegata sia a muro sia a soffitto e le viti ve le danno loro in confezione. La telecamera viene alimentata da un piccolo alimentatore classico con la spina europea che va collegato con questo spinotto che è uno spinotto coassiale. Purtroppo poco protetto, devo dire, mentre l'aggancio Ethernet è fatto molto bene e il tappino lo dimostra rendendo il tutto stagno perché lei ha una telecamera da esterno, quindi ha una certificazione atta a resistere praticamente a qualsiasi intemperia. Ma il cavetto di alimentazione è l'unico vero malus perché una volta agganciato rimarrà così, è esposto a praticamente tutto. E vabbè ve lo dico subito che è veramente l'unico malus. Il cavo di alimentazione è esageratamente corto, stiamo parlando di un metro, forse un metro e venti, un metro e mezzo e per una telecamera che deve essere montata all'esterno significa che dovrà essere montata con una spina vicino. Un sottotetto probabilmente. Per il resto è una telecamera fantastica e si può montare sia per così, ma non ve lo consiglio perché qui sopra c'è l'aggancio, o meglio c'è lo slot per la micro SD e il pulsante di reset. Quindi se non deve prendere acqua allora la potete montare anche per dritto e l'immagine la potrete ruotare all'interno dell'applicazione, altrimenti il suo meglio lo dà quando è girata al contrario perché questa è la sua funzionalità di base e considerate che ha una rotazione di 350 gradi e un tilt di 80 gradi che è veramente tantissimo e soprattutto è una delle poche telecamere che ho visto che non ha bisogno, grazie ai 80 gradi, di essere montata ad un'altezza sopra i 3 metri. Quindi la potrete montare anche, non vi dico ad altezza testa, a un metro e mezzo o due, ma poco ci manca. Vi snocciolo subito le funzionalità peculiari. Come vi dicevo è una telecamera che integra di suo l'intelligenza artificiale. Ma prima di tutto vi dico che qui dentro potete posizionare, e non vi viene data in confezione, una micro SD fino a 512 giga. Sinceramente 64 giga ci registrate un mese senza grossi problemi. E come al solito EasyViz vi regala il primo mese di cloud gratuitamente e dopo lo dovrete pagare, cosa che non vi consiglio perché tanto con la micro SD e una buona letta di casa riuscirete a sopperire senza problemi. Parliamo un attimo di rete, poi veniamo a un altro aspetto peculiare di questa telecamera, ovvero l'intelligenza artificiale. La rete è solo 2,4G, anche perché il suo meglio ovviamente lo dà con il cavetto Ethernet. Ma anche lì, dipende dall'utilizzo che ne volete fare. Se dove la volete montare, e pensateci molto bene perché il suo meglio lo dà a soffitto, avete anche la possibilità di portarci un cavo Ethernet, allora questa telecamera è veramente perfetta. Purtroppo, già ve lo dico, l'alimentazione va collegata allo stesso. Non è una telecamera che si alimenta attraverso l'Ethernet, quindi niente P.O.E. Ma la banda è ottima, soprattutto se la collegate con cavo. Con il Wi-Fi dà comunque il suo meglio. Un 2,4GHz che basta e avanza per vedere tutti i 2K di questa telecamera, quindi una risoluzione di 4 megapixel che fanno davvero bene il loro lavoro, sia di giorno che di notte, perché infatti lei ha la commutazione automatica. Ma su questo EasyViz ci ha abituato. E come al solito, la codifica H.265 aiuta veramente tanto nella trasmissione di dati a ridurre la banda e a velocizzare la comunicazione con questa telecamera. Ovviamente come ormai nella maggior parte delle telecamere di EasyViz, già vi ho detto che la commutazione giorno-notte avviene in automatico, ma non vi ho detto che c'è anche una visione notturna a colori, ovvero lei ha dei faretti, li vedete perché sono questi quattro qui, anzi in realtà sono due faretti, che sono con una luce calda intorno ai 3000 Kelvin, non troppo, non è proprio di quel bianco accecante e freddo, anzi è discretamente calda, che illuminano intorno ai 10 metri e faranno sì che la sera si riuscirà a vedere tranquillamente a colori. Ma secondo me il suo meglio lo dà nella visione notturna in bianco e nero, perché arriva senza grossi problemi a 20 metri e riprende tutto nitidamente. Altra cosa molto interessante di questa telecamera, e che secondo me è il suo perché, oltre al costo, ma ve lo dico dopo il costo, è che questa telecamera grazie all'intelligenza artificiale riesce a riconoscere veicoli, oggetti o persone che stazionano davanti, mandandovi delle notifiche personalizzate. E tra l'altro, cosa molto molto carina, questa telecamera insegue veramente molto bene il soggetto. Ora, sfatiamo un piccolo mito. EasyVids ha integrato un algoritmo non di apprendimento, non di intelligenza artificiale, diciamo ha implementato un algoritmo all'interno delle proprie telecamere che non rilevano perfettamente la rilevazione delle persone, ma rilevano il cambio di scena. Secondo una statistica, un algoritmo proprietario loro, per cui riescono a riconoscere quando c'è il movimento di una persona, oppure il movimento di un animale, oppure il movimento di un veicolo. Semplicemente perché la scena all'interno, la scena a ripresa delle telecamere, varia e quindi inizia a seguire un movimento. Cosa comoda? Cosa scomoda? Non è un proprio vero e proprio peer? Non lo so. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se state pensando che questa telecamera ha un prezzo esorbitante, vi assicuro che vi state sbagliando di grosso. Forse è dato anche dal malus che non ha Wi-Fi, forse è dato anche dal malus che questa telecamera non si può collegare a un pannellino fotovoltaico, o forse anche sì, se riuscite a fare un accrocchio per cui il pannello esce con la 220 e riuscite a bypassare tutto questo accrocchio. Però ciò non toglie che questa telecamera va alimentata. E proprio grazie a questa alimentazione però avrete una connessione stabile e sicura costantemente. E tra l'altro, proprio l'alimentazione vi permette di registrare H24, tutto quello che la telecamera riprende. Cosa comodissima se volete fare una vera e propria videosorveglianza. Oppure, come EasyViz è abituato, ci sono tutte le alte peculiarità della telecamera all'interno dell'applicazione. E io vi ribadisco che l'applicazione EasyViz, a mio avviso, è una delle migliori che io abbia provato. Tant'è che ci ho basato praticamente tutto l'ecosistema di casa. Se volete sapere il prezzo o se vi ho invogliato anche solo un pochino, vi basta cliccare nel link nella descrizione oppure nel primo commento. Ciò non toglie che come prezzo, a mio avviso, ci sta tutto. E voi, che ne pensate? Per aggiungere, come al solito, una telecamera all'applicazione, basta cliccare sul più, scansionare il QR code e praticamente il gioco è fatto perché verrete guidati nell'attivazione. Quello che dovete fare è andare a cercare la telecamera e qui, sempre come al solito, vi vengono mostrati tutti i file delle riprese. In questo momento state vedendo me con la telecamera, questa qui. Vedete quanta poca latenza c'è? Quello che potrete fare di molto comodo è andare ad impostare, adesso qui siamo nel mio studio e non dove era posta la telecamera precedentemente, ma potrete andare a segnare delle posizioni predefinite così non dovrete spostare voi la telecamera con il clic manuale. Ovviamente c'è la comunicazione bidirezionale e l'audio non è nemmeno dei più bassi. Potrete attivare o meno l'allarme oppure anche una sentinella in 3D. Ovviamente, come in tutte le telecamere EasyViz, potrete metterla, tra virgolette, a ninna semplicemente cliccando il pulsante di sospensione. Possiamo attivare una rilevazione intelligente basata su intelligenza artificiale. Il rilevamento dei veicoli, il cambiamento dell'immagine che vi ho raccontato prima e la rilevazione della figura umana. Una cosa carina che non vi ho detto ma che vi dico adesso è che nelle impostazioni PTZ potrete avere un rilevamento dello zoom automatico. In poche parole, sia con vista flessibile, sia con vista fissa, ma solo con risoluzione 4HD, insomma, quindi 4 megapixel 2K se vogliamo, lei andrà ad effettuare uno zoom se rileva delle particolari figure che abbiamo visto qui nella rilevazione intelligente dell'immagine. Anche da questa recensione è tutto, grazie per avermi seguito. Io sono Michele Licati, registratevi al canale, ma mi raccomando commentate qui sotto perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e soprattutto mi fa sempre piacere iniziare una discussione, e perché no, anche tecnica, qui sotto nei commenti. Ci si vede in giro per il tubo, da me e dalla Easybeats C8C. Ciao gente, alla prossima recensione.